Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù sono Nicodemo Fabiano questo è leggiamo la Bibbia insieme oggi che è il giorno 11 di luglio del 2022 noi continueremo la lettura della parola di Dio stiamo seguendo il nostro calendario e quindi vuol dire che quest'oggi noi leggeremo sempre dal Vangelo di Matteo noi leggeremo capitolo 14 e capitolo 15 parola del nostro Signore in quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori costui è Giovanni il Battista egli è risuscitato dai morti perciò agiscono in lui le potenze miracolose perché Erode fatto arrestare Giovanni lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di erodiano moglie di Filippo suo fratello perché Giovanni gli diceva non ti è lecito averla e benché desiderasse farlo morire temette la folla che lo considerava un profetta mentre si celebrava il compleanno di Erode la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto e la spinta da sua madre disse dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista il re ne fu rattristato ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione la sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre e i suoi discepoli i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono poi vennero a informare Gesù udito ciò Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto in disparte le folle saputolo lo seguirono a piedi dalle città Gesù smontato dalla barca vide una gran folla né ebbe compassione né guarigli ammalati facendosi sera i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero il luogo è deserto e l'ora è già passata lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare ma Gesù disse loro non hanno bisogno di andarsene date loro voi da mangiare e gli risposero non abbiamo qui altro che cinque panni e due pesci e gli disse portatemeli qua dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba presi cinque panni e due pesci e alzate gli occhi verso il cielo rese grazie poi spezzati i panni li diede ai discepoli e i discepoli alla folla tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati dodici cesti di piene e quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini oltre alle donne e ai bambini subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a prenderlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la gente dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo frattando la barca già di molti stadi lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito Gesù parlò loro e disse coraggio sono io non abbiate paura Pietro le rispose signore se sei tu comandi di venire da te sull'acqua e gli disse vieni Pietro sceso dalla barca camminò sull'acqua e andò verso Gesù ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò signore salvami subito Gesù stesa la mano lo afferrò e disse uomo di poca fede perché hai dubitato e quando furono salite sulla barca il vento si calmò allora quelli che erano nella barca si prostarono davanti a lui dicendo veramente tu sei figlio di Dio passate all'altra riva venero nel paese di Genezareth e la gente di quel luogo riconosciuto Gesù diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e li presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti Matteo capitolo 15 allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi poiché non si lavano le mani quando prendono cibo ma egli rispose loro e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito con la morte voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione ipocriti ben profetizzò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini chiamata se la folla disse loro ascoltate e intendete non quello che entra nella bocca contamina l'uomo ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero sai che i farisei quando hanno udito questo discorso se ne sono rimasti scandalizzati egli rispose loro ogni pianta che il padre mio celeste non ho piantata sarà esradicata lasciateli sono ciechi guide di ciechi ora se un cieco guida un altro cieco tutte e due cadranno in un fosso Pietro allora disse spiegaci la parola e Gesù disse anche voi siete ancora incapaci di comprendere non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo poiché dal cuore provengono pensieri malvagi omicidi adulteri fornicazioni furti false testimonianze diffamazioni queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo partito di là Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare abbi pietà di me signore figlio di Davide mia figlia è gravemente tormentata da un demonio ma egli non le rispose parola i suoi discepoli avvicinarono e lo pregavano dicendo mandala via perché ci grida dietro ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo signore aiutami Gesù rispose non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini ma ella disse dicci bene signore eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù gli disse donna grande è la tua fede ti sia fatto come vuoi e da quel momento sua figlia fu guarita partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù e gli si avvicinò una gran fola che aveva con sé degli zoppi dei ciechi dei muti degli storpi e molti altri malati li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì la fola restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano gli storpi erano guariti gli zoppi camminavano i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele chiamati a sé i suoi discepoli disse io ho pietà di questa folla perché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare non voglio rimandargli digiuni affinché non vengono meno per via e i discepoli gli dissero dove potremo trovare in un luogo deserto tanti panni da saziare una così gran folla Gesù chiese loro quanti panni avete essi risposero sette e pochi pesciolini allora gli ordinò ordinò alla folla di accomodarsi per terra poi prese i sette panni e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e diede ai discepoli i discepoli alla folla e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si raccolsero sette panieri pieni quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini senza contare le donne e i bambini e Gesù dopo aver congedato la folla salì nella barca e andò nel paese di Magadan parola del nostro Signore quindi questa è la lettura di oggi ma io ti aspetto affinché anche domani noi possiamo leggere la parola del Signore insieme un forte abbraccio un santo bacio e un'ottima settimana guidati sempre dalla parola di Dio questo è leggiamo la Bibbia insieme Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica e un'ottima settimana